Spaccare l'individuo che ha moltissime sfaccettature di colore, lo spacca in tanti colori, quindi oggi invece di incontrare persone molto interessanti con tante sfaccettature, incontriamo persone monotematiche, monocromatiche, ok? Perché invece di esserci tante persone di tanti colori, ognuna di tanti colori, abbiamo tante persone ciascuna di un unico colore. E i tanti colori li puoi vedere solo nella globalità delle persone, il che significa che io per essere soddisfatto della mia compagna non dovrei andare con una ragazza, dovrei andare con dieci. Una è intelligente, una è spiritosa, una è sexy, una è materna, una ha un buon profumo, quell'altra non lo so, ok? Tanti colori, non è che le ritrovo tutte in una persona. Ecco, questa frammentazione coincide chiaramente con la frammentazione dei mestieri, dentro cui ci identifichiamo, io sono un avvocato, io sono il giardiniere, io sono quello, io sono il consulente, va bene? Identificazione, psicologi, dai, un po', eh, però, sono 40 anni, leggetevi a Sagioli, leggetevi un po' di psicologia tibetana, quelli che sono arrivati prima, presuntuosi. Leggete prima quelle vecchie di cose, prima di dire come stanno. E poi vi sfido, mamma mia, ogni volta che provo a parlare con uno psicologo, scappa, eh, scappate, caga sotto. Ciao ragazzi.